Arrivano dalla Toscana i vini esteri preferiti in Francia. Gli ultimi dati sull'export confermano che partono dalla nostra regione le bottiglie più ricercate dai principali competitor degli italiani in questo settore. Il controvalore in euro del vino esportato è di 1 miliardo e 200 milioni in progressione. Proprio i cugini francesi stanno dimostrando un apprezzamento crescente. In termini di progressione da un anno all'altro la percentuale di progressione il mercato che ha risposto meglio è il mercato francese. La patra dei grandi crew dimostra, e questa è una grande conferma, di apprezzare in maniera significativa il vino toscano. Degustazioni, esposizioni, scambi di informazioni alla Fortezza d'Abbasso. Venerdì 10 e sabato 11 febbraio torna By Wine, vetrina internazionale dedicata al vino calice alla mano. Sono attesi acquirenti da 39 paesi del mondo che sorseggeranno le oltre 1.400 etichette differenti. Ma io ritengo che By Wine sia la manifestazione in qualche modo simbolica in cui abbiamo avuto la possibilità in questa stagione dell'anno di presentare quello che è la qualità e la possibilità di export, di attrazione che i prodotti della nostra terra, appunto il vino, riescono a esprimere in tutto il mondo. Il vino è diventato anche un traino per il turismo in Toscana, non solo la degustazione ma il contatto diretto con i produttori. By Wine apre la settimana delle anteprime e rafforza il ruolo del vino come strumento di connessione. Quello che viene più richiesto da parte dei turisti nazionali e internazionali sono le esperienze, cioè non soltanto l'acquisto dei prodotti ma proprio entrare in contatto con i produttori, entrare in contatto con i territori, con le persone che vivono e raccontano la Toscana. Grazie.